nuovo dpcm coprifuoco alle 22 centri commerciali chiusi nel weekend coronavirus nelle marche positiva al contagio il 28 per cento dei tamponi pesaro piange la scomparsa dell'avvocato fabio renzi il ricordo degli amici presentato il nuovo allenatore della vispesaro daniele di donato una buona serata a tutti voi telespettatori di rossini tv canale 633 del digitale terrestre ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale della sera tg di mercoledì 4 novembre che apriamo questa sera parlando del nuovo dpcm che il governo è pronto a varare con nuove limitazioni in base al diverso tasso di contagi da covid 19 nelle aree geografiche d'italia nel prossimo servizio vediamo che cosa è previsto che cambierà nelle marche a partire da domani da domani 5 novembre e fino al 3 dicembre tutta italia si calerà in una nuova quotidianità scandita da un nuovo dpcm del governo ma questa volta il tricolore italiano cambia e avrà l'effetto cromatico rosso arancione e verde in base all'incidenza geografica dei contagi da covid 19 sul territorio nuove misure e nuove limitazioni che la provincia di pesaro urbino e le marche vivranno da uno scenario meno restrittivo quello di zona verde rispetto alle zone arancioni e rosse che catalogheranno i livelli di rischio di propagazione della malattia sulla base delle ultime stime medico sanitarie misure più morbide che obbligheranno comunque a modificare alcune abitudini perché dalle 22 alle 5 del mattino anche nelle marche scatta il coprifuoco in questa fascia oraria notturna tutti gli abitanti della regione dovranno restare nelle loro abitazioni sarà vietato uscire di casa salvo improrocabili e comprovate urgenze per motivi di salute o lavoro altra novità sarà la chiusura dei centri commerciali nel weekend e nei giorni festivi faranno eccezione i negozi presenti all'interno dei centri commerciali dedicati alle attività essenziali come farmacie alimentari edicole e tabacchi rispetto al penultimo dpcm che prevedeva già la chiusura al pubblico di discoteche cinema teatri sale da concerto da domani si aggiunge anche la chiusura di musei e la sospensione di tutte le mostre vengono chiuse anche sale giochi e sale scommesse sospesi anche tutti i concorsi eccezione fatta per quelli con valutazioni dei candidati in via telematica in ambito lavorativo nelle pubbliche amministrazioni negli uffici andranno adottate modalità di smart working nelle percentuali più elevate previste dalla legge come già imposto da qualche giorno ci sarà anche la didattica a distanza al 100 per cento per le scuole superiori modalità che nelle marche vale anche per l'università come legiferato dall'ordinanza regionale del governatore francesco acquaroli che ha anticipato di qualche giorno il dpcm abbassando anche al 50 per cento la capienza nel trasporto pubblico locale per quanto riguarda le altre scuole nelle zone verdi l'attività didattica ed educativa resterà in presenza nel primo ciclo di istruzione e nella scuola dell'infanzia e sono 653 nuovi casi positivi al contagio da coronavirus rilevati nelle marche nelle ultime 24 ore su 3.653 tamponi effettuati 2.267 di questi sono nel percorso nuove diagnosi e 1.386 nel percorso guariti un dato che rispetto a ieri fa crescere l'incidenza percentuale di positività sui tamponi effettuati dal 25,7 al 28,8 per cento la provincia di pesero urbino resta tra le meno colpite con 49 nuovi casi contro i ben 220 della provincia di ancona per quel che riguarda i ricoverati nelle marche se ne registrano 454 cioè 25 in più in un giorno 54 sono quelli in terapia intensiva cioè uno in più di ieri e 110 sono i ricoveri in reparti semi intensivi per quanto riguarda i reparti non intensivi i ricoverati sono 288 dolore e commozione in città per la prematura scomparsa di fabio renzi avvocato 51 anni venuto a mancare nel pomeriggio di ieri in seguito ad un arresto cardiaco renzi era conosciutissimo in città e rossini tv lo ricorda con questo servizio pesero e soprattutto quel mitico angolo della città chiamato cristo re piangono la scomparsa di fabio renzi ieri sera in quello spicchio della zona mare adagiato fra la parrocchia e il campo da basket gli amici di una vita si sono ritrovati in un ideale abbraccio verso quella gioviale e genuina anima del cristo re scomparsa troppo presto tante le lacrime rivolte all'affetto di chi nella sua vita ha sempre regalato sorrisi a chi lo conosceva fabio se ne è andato all'improvviso ad appena 51 anni proprio lì nella sua casa di viale cesare battisti affacciata su quello storico angolo che lo rendeva la vedetta del cristo re amici che simpaticamente lo avevano ribattezzato col nomignolo di puntone amici attoniti che ieri pomeriggio si sono riversati sotto la sua casa al rimbalzo della notizia che fabio non c'era più lì sotto casa pochi istanti dopo che aveva lasciato l'abitazione l'ambulanza corsa sul posto ma solo per constatarne il decesso in vano avevano provato a cercarlo al telefono la madre la sorella il cuore di fabio non ha retto vittima di un malore in casa dove viveva solo e dove probabilmente non è riuscito a chiedere soccorso fabio renzi era un grande aggregatore un sito di riferimento per tutta la comunità di cristo re viveva proprio sopra la fossa dove per anni ha giocato a calcio e basket con gli amici tanti tantissimi in tutta italia nel dicembre scorso organizzò un raduno di tutte le vecchie glorie di cristo re per il christmas star una partita di pallacanestro nella gloriosa palestra di diane cesare battisti alla quale avevano partecipato tutti ma proprio tutti tutti non era mancato nessuno fabio renzi detto puntone mancherà tutti coloro che l'hanno conosciuto e sicuramente non lo dimenticheranno mai fabio era un gigante buono aveva un cuore grandissimo ed era un grande aggregatore ci conoscevamo fin da da bambini per il tristore era una passione in comune della visi e del mangiare lui era ogni un gourmet veramente bravo un bravissimo cuoco un bravissimo avvocato una bravissima persona pesaro ha perso una grande persona con fabio avvocato di successo titolare di uno studio legale cuoco sopraffino e grandissimo tifoso dello sport cittadino lo ricordano anche le società sportive della vl della vispesero e della pesero rugby tre sue passioni tre squadre in cui ha lasciato un segno profondo per la sua simpatia e per il buon umore che lo contraddistinguevano era anche grande amico dell'ex calciatore massimo ambrosini con cui ha condiviso emozioni e sentimenti della sua età d'oro milanista e sabato dalle 14 familiari e amici rivolgeranno un ultimo saluto a fabio renzi proprio nel campo sportivo di cristo re con una cerimonia riservata ad un massimo di 100 persone ed ora cambiamo argomento e ci vogliamo occupare di un'altra di quelle tematiche sanitarie che rischiano di essere eccessivamente offuscate dall'emergenza coronavirus parliamo infatti dell'amianto sostanze nocive e pericolose ancora estremamente presenti nel panorama edilizio del nostro territorio come ci spiega elisabetta sacchi presidente dell'osservatorio nazionale amianto di pesaro io sono sacchi elisabetta presidente dell'associazione comitato ona di pesaro che è nata recentissima il 6 di dicembre 2019 dopo che alcuni di noi hanno perso un proprio familiare proprio per l'amianto la nostra associazione tratta le numerose problematiche legate appunto a questi manufatti contenenti amianto sul nostro territorio il nostro fine è la salute e l'ambiente e arriviamo tramite l'informazione la conoscenza e la prevenzione la prevenzione e inviamo queste segnalazioni agli organi competenti per fare operazioni di verifica nei siti quindi le segnalazioni dei cittadini sono di fondamentale importanza perché ci permettono di individuare possibili fonti di inquinamento e fare la messa in sicurezza del sito infine non è solo questo stiamo cercando di sensibilizzare anche le istituzioni perché vengano stanziati dei fondi e dei bonus per incentivare il privato a fare le bonifiche di questi manufatti ricordo che appunto l'amianto è stato bandito nel 1992 con la legge 257 proprio perché è stata accertata la nocività ma ricordo anche che non tutti gli stati hanno aderito a questo bando quindi abbiamo ancora la russia la cina e il kastakistan che estraggono amianto come associazione abbiamo già segnalato all'autorità abbandoni di lastre di ethernet in posti veramente isolati dal monte di corbordolo sull'ardizio e quindi facciamo un appello proprio ai cittadini perché ci aiutino e ci sostengono in questa lotta che è per il bene comune noi praticamente stiamo cercando di arrivare ad una mappatura di questi luoghi per individuare fonti di inquinamento mappatura e censimento soprattutto ci potete eventualmente contattare al seguente numero 349 4578 062 o l'indirizzo email comitato onapesaro chiocciolabirgilio.it abbiamo una pagina facebook dove potete eventualmente aggiornarvi con le notizie che teniamo monitorato sia sul nostro territorio che a livello nazionale venerdì 6 novembre pesaro ospiterà la sesta edizione degli stati generali del turismo un'edizione 2020 che verrà effettuata interamente sulla piattaforma zoom con collegamenti dall'italia e dall'estero con il network delle città creative unesco e con progetti creativi e protocolli che sanciscono nuovi partner fra gli ospiti in collegamento il sindaco di bergamo giorgio gori il direttore esecutivo enit giovanni bastianelli ed elisabetta cook sindaco della città tedesca garmi spartenkirchen ospiti che lavoreranno insieme ad albergatori tour operator e start up per mettere a sistema nuove strategie e azioni rivolte al comparto turistico il sindaco di pesaro mattio ridge l'assessore al benessere mila della dora hanno incontrato oggi le società sportive cittadine illustrando le linee di sostegno dell'amministrazione in questa fase di restrizioni il comune si è fatto carico di sollecitare il governo sul nuovo decreto ristoro e la regione nel ripristino della piattaforma 210 con la riattivazione dei contributi a fondo perduto inoltre è stato messo a disposizione dei professionisti dello sport lo spazio delle pertinenze dei circoli comunali per svolgere attività d'allenamento nel rispetto del distanziamento sociale domani giovedì 5 novembre sarà sciopero nazionale per quel che riguarda i metalmeccanici a pesaro davanti alla sede di confindustria pesaro urbino si terrà una manifestazione su iniziativa dei sindacati fim fium e wilm uno sciopero che nella nostra provincia è previsto di otto ore lo sciopero è stato proclamato dopo che lo scorso 7 ottobre confindustria federmeccanica ha deciso di interrompere la trattativa del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici dichiarandosi non disponibile ad accordi ad urbino palazzo ducale la galleria nazionale delle marche danno il benvenuto al nuovo direttore luigi gallo 53 anni storico dell'arte gallo arriva urbino dopo l'esperienza da curatore alle scuderie del quirinale di roma prende il posto di marco pierini che era stato nominato direttore ad interim a fine 2019 in seguito alle dimissioni di peter offreiter ora direttore del museo della tecnica di vienna domani 5 novembre l'associazione di pesaro per corso donna inaugura la seconda edizione delle festival percorsi lotta alla violenza di genere pari opportunità sono alcuni dei temi che l'associazione intende veicolare nonostante le stringenti limitazioni del periodo il festival si terrà infatti interamente online come ci spiega laura martufi presidente di percorso donna anche quest'anno alla seconda edizione del festival ci tenevamo tantissimo e saremo quindi collegate in streaming con tutti i nostri ospiti e le nostre ospiti a partire da giovedì 5 novembre la prima edizione di questo festival tutta online e il 5 novembre alle ore 18 avremo il primo collegamento con vera geno e lorenzo gasparrini che presenteranno all'interno dell'iniziativa i percorsi delle parole i loro due libri edizioni fq vera geno con femminili singolari e lorenzo gasparrini con no l'importanza di un uomo e di una donna che si confrontano sul tema del linguaggio del femminismo e della comune impegno verso la prevenzione della violenza di genere anche attraverso le parole poi venerdì 6 novembre secondo appuntamento partiamo alle ore 16 in streaming con due ospiti a noi molto care la ministra per le pari opportunità e per la famiglia Maria Elena Bonetti e la presidente della fondazione belisario Lella Golfo due donne due donne delle istituzioni che si confrontano su un tema che è quello delle pari opportunità e dell'economia nel 2020 quindi per noi era importante parlare in questo anno in particolare di come le donne sono state chiamate ad affrontare la pandemia da covid 19 di qual è stato il ruolo all'interno della società delle donne nel lavoro di cura e nel lavoro quotidiano e quindi di questo discuteremo con le nostre ospiti e ancora il giorno successivo a chiusura del festival sabato 7 novembre cominceremo la mattina alle ore 11 con nostra ospite stefania prendi giornalista scrittrice e fotografa la quale presenterà il libro che ha pubblicato recentemente con le edizioni 7 9 dialogando con monica martinelli fondatrice della casa editrice 7 9 il libro si chiama le conseguenze stefania accende una luce su chi resta dopo i femminicidi quindi le storie non solo di queste donne che sono state ammazzate ma delle persone che accanto a loro sono rimaste i padri le madri e i fratelli le sorelle i figli di queste donne e questo libro è diventato anche una mostra fotografica che porteremo a pesaro e l'apertura è prevista per sabato pomeriggio alle ore 16 presso lo spazio bianco in via zongo salvo modifiche dovute al imminente dpcm in uscita quindi se non sarà possibile portare la mostra perché saranno chiusi musei ci impegniamo comunque a portarla quanto prima al più presto perché sia visitabile nella nostra città è una mostra molto molto forte ma davvero importante per il messaggio che porta e concludiamo sabato 7 novembre il festival con la diretta percorso donna con te speciale edizione percorsi alle 17 con la nostra tazza di tè come abbiamo fatto durante tutti i mesi del lockdown ci troveremo insieme e racconteremo e parleremo dei temi a noi cari questo è un appuntamento per noi particolarmente importante perché la testimonianza di quello che è stato il nostro non fermarci durante i mesi della pandemia abbiamo sempre pensato che fosse importante continuare a stare accanto alle associate ma anche alle donne agli uomini che in quel momento così difficile chiusi in casa per la prima volta in lockdown avevano bisogno e desiderio di continuare a sentirsi vicini anche a distanza quindi ci vediamo per l'appuntamento di sabato 7 novembre alle ore 17 con percorso donna con te nel quale lanceremo anche la presentazione dei gingilli bijoux il regalo che quest'anno è stato fatto da debora autrice dei gingilli bijoux a percorso donna debora ha realizzato il gingillo come quello che portò al collo con l'immagine di tre donne che abbiamo raccontato durante i mesi di lockdown e abbiamo scelto di portare con noi sempre come esempio di quello che si può fare attraversando il tempo e gli anni e la storia i pazzi ad alessandra artemisia gentileschi e mary jackson sono le tre donne che abbiamo raccontato che racconteremo e continueremo a portare con noi si chiama campus il nuovo volume realizzato dall'università dell'età libera tratto dai tanti incontri corsi e seminari che si sono svolti in questi anni una pubblicazione che ci viene presentata dal suo curatore marco savelli nell'intervista realizzata da daniele romagna il nostro è un progetto molto semplice dopo tanta attività con tanti percorsi formativi con tanti corsi abbiamo voluto tradurre questo nostro impegno in tutti questi anni in un qualcosa di scritto che resti nel tempo ed è un qualcosa di scritto legato a cinque incontri monotematici che dovremmo avere dico dovremmo perché sappiamo che su di noi incombe il virus dovremmo avere tra novembre e dicembre i cinque docenti nostri vecchi collaboratori che sono che hanno come dire composto i singoli testi hanno aderito con entusiasmo a questo tipo di iniziativa naturalmente nella nella nostra diciamo così pubblicazione che rivista non è perché valuteremo come e se proseguire la pubblica questo tipo di iniziativa questo volume vogliamo troviamo sostanzialmente come dire tre riviste in una troviamo un raggruppamento una parte iniziale le lezioni con cinque cinque saggi che spaziano dalla scapigliatura alla diciamo così alla letteratura del trecento al cortigiano di balzazzar castiglione alla letteratura che sta attorno alla città di trieste e diciamo così al mito d'orfeo e via discorrendo una seconda parte la cui titolazione appunto racconti un racconto pubblicato vent'anni fa molto interessante ambientato due secoli fa negli new england o inghilterra negli stati uniti d'america e un racconto più breve invece ambientato qui da noi all'interno della biblioteca oliveriana e alla fine in chiusura come dicevo prima la la intervista al rettore al rettore calcagnini questa questa pubblicazione è possibile trovarla in tutte le librerie della città è possibile naturalmente trovarla da noi c'era la sede dell'università libera e naturalmente anche come dire telefonando si può come dire si possono prenotare delle coppie e si possono averle in alcuni casi quando è facile raggiungere la persona che richiede che richiede la pubblicazione magari lo possiamo e la possiamo portare anche anche a mano diciamo così ed ora ci occupiamo di sport in particolare di calcio oggi è stato presentato allo stadio benelli il nuovo allenatore della vispesero daniele di donato che ha preso il posto di giuseppe galderisi esonerato nella giornata di ieri rossini tv era presente al benelli e ora vi mostriamo un estratto della conferenza stampa di presentazione nella testa di presidente bosco mia e del direttore crespini c'era un preciso profilo profilo di un allenatore giovane emergente preparato e che ultimi anni che negli ultimi anni ha ha fatto bene già con i primi allenamenti devo dire che si è presentato molto bene e speriamo che il nostro progetto può andare avanti come abbiamo pensato e come desideriamo devo dire che questa scelta è sempre una scelta a medio lungo termine questa società pensa sempre a medio lungo termine avevo una gran voglia di tornare sul campo e ho avuto la fortuna e di questo devo ringraziare il direttore e il presidente che mi hanno proposto questo progetto importante dove mi sono catapultato con tutto me stesso sinceramente io l'ho trovata abbastanza bene sono messi subito tutti a completa disposizione questi due giorni abbiamo lavorato tanto perché giustamente non abbiamo tanto tempo per conoscersi anche perché poi la prossima avremo il tour de force quindi però li ho trovati belli pimpanti e belli vogliosi di fare un qualcosa di importante io la vispesa l'ho seguita perché all'inizio ho seguito il mercato e secondo me aveva fatto una buona squadra una squadra importante sicuramente i risultati non sono contro nelle aspettative che la società si è prefissata e per questo c'è stato questo cambio però ho visto la partita a Verona sono andato a vederla con la Virtus ho visto una squadra un po' spaventata con delle qualità con delle buone qualità solo un po' spaventata ma dovuto al fatto che alla fine sono ragazzi e quando le cose vengono un po' a mancare viene meno quella tranquillità che serve per giocare questo cambio spero che gli ridia quello stimolo in più per tornare su livelli importanti io lavoro molto, per me si deve aggredire sempre in avanti e io il mio credo è aggredire sempre in avanti e avere una squadra sempre corta sui 30 metri che secondo me sui 30 metri c'è un po' di tutto è normale che dobbiamo avere coraggio quello purtroppo quando ti vengano a mancare i risultati la prima cosa che fai è scappi in difesa da porta però secondo me si deve, secondo il mio credo, poi ognuno la pensa in modo proprio la difesa deve essere alta bisogna essere più lontani possibile dalla porta bisogna aggredire in avanti sempre poi è normale che bisogna vedere anche i momenti bisogna analizzare i momenti e la situazione in cui ti trovi Altra notizia di sport a distanza di quasi nove mesi l'Ital Service sabato alle 16 tornerà al Pala Nino Pizza per ospitare la signor prestito Matera nel match valido per l'ottava giornata di Serie A la squadra lucana vanta gli stessi punti in classifica dell'Ital Service cioè 7 e sta attraversando un grandissimo momento di forma tutti gli ingredienti dunque per una partita da non perdere e che potrete seguire proprio in diretta su Rossini TV a partire dalle 16 ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata alle 21 e 15 con replica alle 22 e 30 vi proporremo lo speciale che abbiamo realizzato all'istituto Bramante Genga in merito alla consegna dei diplomi per il corso di gestione di eventi pubblici e privati tenuto dallo stesso istituto è davvero tutto per questa edizione di Rossini News vi ricordiamo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina alle 7 e 20 in diretta dai nostri studi con la rassegna stampa dei quotidiani locali buongiorno Rossini noi della redazione vi salutiamo e vi auguriamo un buon proseguimento di serata con i programmi di Rossini TV Grazie a tutti